L'apparato sperimentale è costituito da un globo di rame, sostenuto da colonne di vetro sormontate da bastoni di cera di spagna per migliorare l'isolamento. Le quattro colonne sono fissate ad una tavoletta scorrevole, che può fermarsi all'altezza più comoda per l'esperimento. Di fronte al globo viene posta una placchetta di carta dorata, fissata all'estremità di un ago di gomma lacca. Tale ago è sospeso ad un filo di seta, attaccato all'estremità inferiore di un bastoncino, ricoperto di gomma lacca. Il bastoncino è bloccato da una pinza, scorrevole lungo il regolo, che a sua volta può essere fermato all'altezza conveniente all'esperimento, in modo cioè che il diametro orizzontale del globo corrisponda al centro della placchetta di carta dorata. Grazie. 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 Grazie.